Ma soprattutto è un grande tifoso, un grande in tutti i sensi e tanto dalle prime strofe penso che capirete. È stata fatta proprio ieri questa, quindi l'ho anche provata poco. Andiamo con Digaboo e teniamo anche un tocco di rock. E' anche bellissimo per le elezioni, puoi star sicuro, non sono i partori, l'inistabilità, non è il cambiamento, tutti lo sanno chi fa il presidente. Sono 40 anni degli altri strani, dirigenti, ma di stifassare, con padanini, con padanini, erano anti, boccanti, casini. Capo il discusso della gradinata, anche nel mezzo a forchetta, soldata, che l'intraspetta, sempre cresente, per la sua robu non lo ferma niente. Ma lui chi è? Ma cosa fa? Ma chi sarà? Non è solo l'unima ci si sa. Non è solo l'unima ci si sa. Non è solo l'unima ci si sa. da telefonare, parliati insieme e non lavorare, tanto è tranquillo che non ha fredda, perché non parla lui mai la fermezza, spesso il tv, commentatore, forse si cerca che un coordinatore, spesso il tv, commentatore, forse si cerca che un coordinatore, pensarei così, ma non è una cosa fa, ma che sarà, non è solo un'imagine si sa, non è solo un'imagine si sa, non è solo un'imagine si sa, e nel passato ammiglionato, a rascoli incazzato, e l'intervista con cannoni, a con perute e coglioni, ma poi si sono anche spiegati, e forse anche abbracciati, e tutto a posto è andato. E' troppo a tutti che è un gran presidente, senza di lui qui non si fa niente, sempre a servizio, per i suoi tifosi, anche di quelli che è un po' più permanosi, non è di pari, per i mangiare, con queste cene ci fai anche un gassare, per il vincangio, per il mio testo, basta un'imagine, tra cena di fritto, per le elezioni, nessuno appare, nessuno appare, tutti non riesce a portare, tutti non riesce a portare, grazie, grazie per il mio testo, grazie a tutti. Grazie a tutti.